Sono io, sono qui. Queste sono state le prime parole di Massimo Fantauzzi dette agli uomini della pattuglia dei carabinieri nell'atto di consegnarsi sabato mattina stremato da otto giorni di fuga nelle campagne, non molto lontano dalla sua abitazione di frazione con l'evento alta a Montesilvano Colle. A raccontarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Pescara che in conferenza stampa oggi hanno anche mostrato l'arma del delitto, un fucile da caccia a canne mozze con matricola Brasa che lo stesso Fantauzzi ha fatto rinvenire agli investigatori indicando dove lo aveva gettato, cioè nelle campagne di Ortona dei Marsi. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma dopo l'omicidio di Antonio Bevilacqua la notte tra il 15 e il 16 settembre, Fantauzzi ha lasciato il pub Birrami di Via Verrotti a Montesilvano saltando in sella la sua moto, una Honda CBR 600 e fuggendo verso la Marsica. Qui ha abbandonato l'arma del delitto in una zona poco abitata e abitualmente frequentata da motociclisti per poi tornare indietro verso Pescara. Dopo essere uscito dall'autostrada ha abbandonato la moto gettandola nel fiume Pescara sotto il ponte delle Fascine a Cepagatti, lì dove è stata ritrovata sabato pomeriggio facendo perdere così definitivamente ogni traccia di sé. Se la dinamica della fuga è abbastanza chiara, il movente di un omicidio così efferato non lo è affatto. Dato acquisito è il litigio fra Fantauzzi e Bevilacqua avvenuto un'ora prima del delitto sempre davanti al pub Birrami. Litigio confermato dalle immagini di sorveglianza e dalle testimonianze degli avventori del bar. I due, dicono i carabinieri, si conoscevano questo e certo, ma non ci sono riscontri sul vero motivo alla base del diverbio. Un giro di droga? Un debito di gioco? Il movente resta un mistero che potrebbe però essere svelato nel corso dell'interrogatorio di garanzia di Massimo Fantauzzi che non è stato ancora però fissato. Che cosa abbia causato questo diverbio in questo momento è allo studio e all'esame ancora di chi sta indagando. Per cui insomma anche e soprattutto alla luce dell'arresto del Fantauzzi plausibilmente renderà delle dichiarazioni se lo ritiene opportuno altrimenti si avverrà della facoltà di non rispondere ma comunque noi dobbiamo attendere anche su questo aspetto le eventuali dichiarazioni del Fantauzzi. Il 46enne pizzaiolo che ora si trova in carcere in isolamento anche per evitare ritorsione da parte dei detenuti legati alla comunità rom come è accaduto alla sorella nel carcere di Chieti ha già confessato il delitto. I carabinieri hanno confermato che nelle perquisizioni nella sua abitazione hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana e una pistola e hanno anche detto che allo stato attuale non ci sono altri indagati per l'omicidio del 21enne rom e oltre non risultano persone che abbiano appoggiato alla fuga di Fantauzzi.